E' in arrivo quasi un milione di euro per il progetto di miglioramento tecnologico e riduzione dei consumi della rete di illuminazione pubblica. Il finanziamento riguarda il comune di Avola che è stato inserito nella graduatoria utile e quindi ammesso al finanziamento nell'ambito dei fondi europei 2014-2020. A fronte di un costo complessivo di quasi 997 mila euro, il contributo concesso è stato integrale e suddiviso in tre anni, 2019-2020 la cifra più cospicua e 2021. Soddisfatto il sindaco di Avola, Luca Cannata, che dichiara continuiamo a lavorare per l'efficientamento energetico intercettando finanziamenti. Questo ci consentirà di proseguire con il progetto di illuminazione di tutta la città che prevede anche il riscatto dell'impianto da Enel Sole per far sì che l'intera rete torni comunale e tutta possa essere efficientata.